Dio. Nostro rifugio e nostra forza. Tu hai dato al Santo Vescovo. E Dottore della Chiesa Alberto. La forza di orientare il sapere umano. Alla sapienza eterna. Rafforza e proteggi per sua intercessione la nostra fede. Nella confusione spirituale dei nostri giorni. Donaci l'ampiezza della sua mente. Affinché anche il progresso delle scienze. Ci aiuti a conoscerti più profondamente. E aggiungere più vicini a te. Fa che possiamo crescere nella conoscenza della verità. Che tu stesso sei. Affinché un giorno possiamo contemplarti faccia a faccia. Insieme con tutti gli angeli. Ti preghiamo per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre. Al Figlio. E allo Spirito Santo. Come era nel principio. Ora e sempre. Nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre. Al Figlio. E allo Spirito Santo. Come era nel principio. Ora e sempre. Nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre. Al Figlio. E allo Spirito Santo. Come era nel principio. Ora e sempre. Nei secoli dei secoli. Amen. Sant'Alberto. Prega per noi.